A me piace molto viaggiare perché è comunque un modo per mettersi in discussione, articolarsi con nuove persone, nuovi ambienti, è sempre un'esperienza di crescita. Il viaggio che ricordo con più piacere è un viaggio che ho fatto in Tunisia a fare un festival di teatro ed è stato anche lì uno scambio con colleghi africani che mi ha molto arricchito. Trovo che questo festival sia veramente all'avanguardia non solo di festival mondiali ma forse anche del tipo di rapporto e di giudizio a cui questa società si dovrebbe sottoporre. Mi piacerebbe che le azioni dei grandi comunque fossero giudicate dai giovanissimi perché in fondo il futuro è loro e quindi hanno molta più voce in capitolo. Una canzone che mi ricorda la felicità per ritornare anche alla tua domanda iniziale Sì, viaggiare di Lucio Battisti Sì, viaggiare affrontando le buche più dure Sì, viaggiare evitando le buche più dure Senza per questo cadere nelle tue paure Sì, viaggiare evitando le buche più dure